C'è molto meno grano, il grano è diventato nero, sta diventando nero, quel poco che c'è, ecco qua, è malnutrito e si rischia di avere tante tossine che addirittura forse non sarà nemmeno, diciamo, commerciabile per l'alimentazione umana. Una terribile annata per l'agricoltura retina. Le violente ed intense ondate di maltempo stanno mettendo in ginocchio l'intero settore, piegando le coltivazioni di cereali, frutteti, ma anche ortaggi e vigneti. In Val di Chiana la problematica più grave è proprio quella dei cereali, fortemente a rischio, infatti, ettari di piantagioni. Io penso che il raccolto del grano è compromesso e poi vedendo le previsioni, diciamo, da domenica prossima a fine mese che rimette pioggia, per me io non so che cosa ci rimarrà di questo seminativo. Ma non solo cereali, codice rosso anche per piantagioni di mele, orticole, pomodori e infine meloni. Ogni pianta dovrebbe portare 5-6 meloni a compimento e chiaramente una pianta sfittica in questo modo, poi lo vediamo benissimo anche dal colore, non può andare a produzione. Produrrà pochissimo, ma una cosa certamente l'ha prodotta, cioè il costo. Ha prodotto il costo di impianto. Una situazione drammatica che potrebbe provocare danni irreparabili, ma andare in fumo un intero anno di lavoro. Ti viene la depressione venire nei campi, perché non riesci a lavorare, non riesci a fare più niente. Le lavorazioni ti costano per tre volte, un operaio un lavoro ti costa per tre volte. Cioè è diventata una cosa veramente assurda, assurda, assurda da gestire. Arriva da Coldiretti la richiesta di un riconoscimento di stato di calamità naturale. C'è comunque la possibilità di chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte della regione e di conseguenza avere anche sgravi contributivi o altri tipi di intervento che non sarà più un aiuto diretto, ma comunque può essere un momento di respiro per le nostre imprese che, insomma, come abbiamo visto, sono state fortemente danneggiate con danni che si aggirano secondo le produzioni da un 60 all'80%. Ma non è solo il maltempo a far paura all'agricoltura retina che deve fare conti anche con il crollo dei prezzi dei prodotti delle campagne e con i problemi relativi ai danni dovuti alla fauna selvatica, uno su tutti quello degli ungulati. Mentre le condizioni avverse medie purtroppo sono incontrollabili da parte di tutti noi, il problema ungulati potrebbe essere gestito sicuramente con una gestione della fauna selvatica in un certo modo. Diciamo che quest'anno veramente stiamo dando il colpo di grazia all'agricoltura toscana e alle imprese agricole.